È un bilancio positivo, quello tracciato dal primo rettore della Fraternità dei Laici, Pierluigi Rossi, sulle visite turistiche al percorso espositivo La Casa dei Tesori di Arezzo e alla mostra Minerve Signum, dedicata alla statua bronzea della Minerva, inaugurate il 6 maggio alla presenza del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Un risultato che conferma la posizione di primato del territorio aretino su scala nazionale, rilevata dal rapporto 2017, realizzato da simbolo Union Camere, per quanto riguarda la spesa dei turisti nelle attività culturali e creative offerte dalla provincia. Noi abbiamo un passo lento, graduale ma continuo, che si attesta intorno a 50 persone che sono entrate all'interno del palazzo ogni giorno, ogni giorno, perché questo palazzo è costantemente aperto. I portoni sono spalancati dalle 10 e mezzo della mattina alle 18 della sera. Il Museo dell'Oro e della Minerva è chiuso il martedì, ma il palazzo è sempre costantemente aperto. Abbiamo avuto un ottimo omaggio, a giugno abbiamo avuto un calo per ovvi motivi di tribune che hanno impedito di fatto l'entrata, anche se il palazzo era sempre costantemente aperto e adesso siamo già in buona ripresa. Sono molto contento. Abbiamo avuto anche sabato domenica 130 persone paganti che sono entrati. Insomma, possiamo dire, sono soddisfatto.